Grazie a tutti. 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 Doviamo... Grazie a tutti. ... 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 Io sto mettendo in guardia perché oggi abbiamo dei piccoli provvedimenti che si possono essere uno, due, tre, quattro, non hanno detto 300 di quattro uomini che esattiveremo noi come comune. Allora voi capite chiaramente cosa sto votando e quindi io non ho avuto una grande parere che abbiamo chiesto perché non c'è stato un tempo perché molto spesso noi non pensiamo alla volontà di quello che stiamo facendo ma pensiamo a un conto politico di quello che stiamo facendo e allora mettere in meta, cercare di fare le cose, cercare di fare le cose. Allora oggi noi non possiamo votare le cose perché non è arrivato il Consiglio Comandolo, però dico molto l'angualità perché io penso che è meglio essere una settimana in più e raggiungere il risultato che si ha. Ma questo è la partimento. Allora ma la partimento non lo sa, non mi posso dire che allora io vorrei rispondere chiaro che ricevendo la legge, io non ho fatto partita che ricevisco la legge più di oggi. E' chiaro che ricevisco la legge, la devo ricevendo il nostro, e la legge dice che nel momento in cui io ho ricevito la legge numero 5, l'antico 1,75, io dovrei provvedere allo centro dello Stabile. E questo vale per tutti i stati di persone del tempo in età. Allora io voglio dire che sia chiaro, io non ho venuto a votare, ma dobbiamo sapere che cosa stiamo votando e cosa ci mostrerà il voto che c'è. Io non ho ancora un premiale oggi. Allora io avevo proposto di scontare con gli obiettivi una settimana cosa, e c'è il tempo che ci ha già fatto bene, ma dobbiamo sapere già, di una settimana cosa. Ma l'abbiamo votato gli atti o più, gli atti o più, l'antico di questa parte. E' no, 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 e' no. Allora, io sto dicendo che a questo momento io non ho risposto, è chiaro, di cosa mi costa questo, diciamo, il ricevimento di questa messa. Se qualcuno, potresti mi chiedeva di, diceva un po' di cosa, se non è proprio, 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 se non è proprio una cosa per me. Grazie.